bella a tutti ragazzi sono safedeck e sono qui per commentare le top 5 del safe clan partiamo con la quinta posizione ok alla quinta posizione troviamo cifu dei reset che prima uccide un po di gente a caso e poi con calma raggiunge lo spawn saltando e poi fa una 5 on screen rolling su advanced warfare bellissima clip veramente ci fu quinta posizione meritatissima alla quarta posizione troviamo tic senze che fa un 1080 suicide su advanced warfare riguardiamo la killcam cancella equipaggiamento e ci porta un 1080 suicide ok ragazzi alla terza turbo ci porta un altro suicide sulla stessa mappa di quello di prima un 1440 rivediamo la killcam spara con l'inx due volte poi cambia arma e lo hita distance alla seconda posizione il grandissimo reset blend ci porta una six on screen su ride e poi esplode male con un drone d'attacco alla prima posizione invece ntifj nome impronunciabile ci porta una triple ob su advanced warfare si una triple ob su advanced warfare in killcam bellissima da vedere è bellissima clip complimenti prima di lasciarvi vi dico altre due cose cioè che the rising sarà presto fuori e se volete mandare nuove clip per le top potete mandarla al link in descrizione se volete passate dal mio canale anche se bruttissimo e quindi vi saluto ciao belli